L'amministrazione comunale di Gaeta punta anche quest'anno sull'Arena Virgilio. Sì, quest'anno con l'Arena Virgilio portiamo avanti un programma con grandissimi artisti, basta pensare a Gigi D'Alessio, basta pensare a Fabrizio Moro, Pia Meteo, Biagio Izzo, tutti artisti di fama nazionale e anche internazionale. Quindi un'Arena Virgilio che si arricchisce sempre di più e che mette sul palcoscenico nazionale la città di Gaeta, sempre più efficiente, sempre più metaturistica e sempre una destinazione da cliccare e da venire a degustare. Quali sono i numeri fatti nelle scorse stagioni e quali saranno quelli di quest'anno? Negli anni scorsi l'Arena Virgilio ha fatto più di 15.000 presenze in totale e quindi credo che quest'anno con questo palcoscenico di artisti di fama nazionale sicuramente si supera qualsiasi previsione.